Parole, parole, io prima di invitare l'ospite e il tema della serata ho ricevuto questo pomeriggio alle 7 una lettera, una lettera fatta di alcune parole da parte di un amico, quello stesso con cui abbiamo chiuso domenica il weekend del tango, si tratta di Giancarlo Trapanese che è il direttore di Rai 3, il quale ci ha ringraziato, ci ha ringraziato quella sera, ci ha ringraziato più volte dandoci anche degli ottimi suggerimenti, degli ottimi consigli, però oggi mi ha scritto e mi permetto, farò una forzatura, mi scuserò con lui, di leggervi la sua lettera e naturalmente come domenica non posso essere che aiutato dal più fine di citore che abbiamo qui in questo festival che è Marco Di Stefano. Caro Ermas, approfitto della tua sensibilità e ti chiedo di spendere un paio di minuti nella lettura di questi mail per poter condividere con te una cosa positiva, una storia che penso sia bello conoscere. A Fano, venti anni fa, nacque una bambina con un grave handicap, Cristina Tonelli. Una sofferenza placentare aveva causato una grave lesione cerebrale. A lei i medici poco dopo la nascita non avevano concesso la speranza di una vita accettabile e indipendente. Non potrà camminare, avevano detto, né forse intendere, ma la famiglia non ha smesso mai di credere e di lottare contro tutto e contro tutti. Sorretta dalla fede, da un amore immenso e da una straordinaria complicità, oltre che da una sanità che ha funzionato bene, da medici in gamba. I miglioramenti, prima modesti, poi sempre più importanti, afferrati con la forza della determinazione e della speranza, fino a che Cristina, che non può parlare, impara prima a coordinare i movimenti, poi a camminare, seppure aiutata, infine a scrivere al computer con un solo dito. E così si scopre che dietro un fisico imperfetto c'è un cervello straordinario che capisce tutto, impara e ha sempre seguito, anche quando niente lo lasciava immaginare tutto ciò che le accadeva attorno, una ricchezza immensa di sentimenti che trasmette tramite un linguaggio tutto suo, elaborato e studiato per compensare le difficoltà ed esprimersi in modo compiuto. Così Cristina vince lo scorso anno un premio giornalistico riservato alle scuole, lei frequenta ora la terza liceo socio pedagogico, firmandosi sirena senza coda, per non farsi identificare e avere ipotetici vantaggi dal suo stato. Grazie a questa circostanza ho avuto modo di conoscere lei e la sua splendida famiglia. Nasce così sirena senza coda, un romanzo scritto a due mani da me e da lei e che uscirà fino a ottobre edito da una grande casa editrice, la Vallecchi di Firenze. È una storia ambientata a rimini con nomi diversi, che parte dalla sua vicenda personale e poi diviene un romanzo per riflettere sulle cose della vita e dell'handicap. Con lei che ha voluto fortemente questo grande impegno per dire a tutti di non fermarsi alle apparenze, di non giudicare dall'aspetto esteriore, che c'è sempre una possibilità. Quello che Cristina fa sognare a Gemma, la protagonista del romanzo, una ragazza come lei. Quello che possiamo in fondo sperare tutti se sapremo tornare alla cultura del sentimento. Questo volevo avere il piacere di comunicarti personalmente con buon anticipo, perché credo che qualche notizia positiva possa solo fare piacere. Un caro saluto. Giancarlo Trapanese. Quando ho letto e ho telefonato per questa lettera che è arrivata oggi e ho fatto questa forzatura, ho avuto modo, come penso voi nell'ascoltare queste parole, di comprendere tutta la dimensione alla portata del tema che ci aspetta. Questa ragazza comunica solo tramite computer con un dito. Pensate la fatica, la conquista, la bellezza della parola. E chi ormai, come nessun altro, soprattutto con la parola italiana, perché mi pare che sia quasi impossibile esportare questo lavoro che sta facendo, più di un uomo che da solo riassume e rappresenta la sfida di sempre, la sfida con cui è nata l'umanità. Ricordiamoci la sfinge che ferma Edipo sulla strada di casa e gli sottopone un enigma. E vincendo quella scommessa su chi fosse colui che al mattino mina a quattro zampe alle dodici, con due, alla sera con tre, rispondendo l'uomo, l'enigma ci porta a fondo dell'umanità, nel profondo. E chi più di ogni altro in Italia rappresenta l'enigma, come Stefano Bartezaghi. Allora, Stefano Bartezaghi ci ha raggiunto dopo cinque ore di viaggio. Non è facile venire in questo primo weekend delle vacanze degli italiani. Benvenuto a Civitanova, benvenuto a Tutto in Gioco ed è pronto per la prima volta. Lui che è un vero sadico, perché sottopone tutte le settimane il suo pubblico ha delle contorsioni micidiali a mettersi in gioco e a farsi torchiare questa sera. Allora, il nostro gioco è questo. Una chiacchierata però è una chiacchierata con il pubblico veicolata dal telefonino. Io vi ripeto questo numero di servizio al quale potete inviare tutte le domande, i quesiti, gli interrogativi, i suggerimenti, le valutazioni che vorreste qui al nostro ospite porre. Lo facciamo attraverso Isabella Barrucci che vi risponderà agli messaggini al 339-7253-636. Ripeto, 339-7253-636. Allora, innanzitutto chi è Barte Zaghi? Figlio d'arte? Beh sì, credo di essere un cognome in questo momento preliminare perché appunto dato che il cognome è quello ed è anche un po' particolare perché non è molto diffuso, molte persone identificano Barte Zaghi con la settimana enigmistica e qui io incomincio personalmente a entrarci un po' meno perché quello della settimana enigmistica è stato molto lungo mio padre Piero, ora è mio fratello Alessandro e io pur occupandomi e facendo anche enigmistica perché effettivamente ogni settimana sul sito di Repubblica esce un mio cruciverba e in questo periodo invece in agosto c'è una mia pagina di giochi proprio sul quotidiano La Repubblica di Carta, però ecco l'appuntamento tradizionale per l'enigmistica italiana è quello con la settimana enigmistica e lì appunto è un sadismo che io usurpo perché appunto sono fratello e figlio quindi un po' dentro alla cosa ma allo stesso tempo anche fuori perché non sono un collaboratore. Abbiamo dimenticato l'ultimo dei fratelli Paolo che invece ha deviato, sderazzato come si dice a Civitanova perché è finito qualcosa di più fumnambolico ma di meno aritmistico. Sarà felice di sapere che si dice sderazzato, è una bella parola. Io dico sempre che nelle famiglie feudali il primo genito ereditava il feudo e il secondo genito andava a cavaliere quindi all'avventura in giro per il mondo e in effetti il mio fratello primo genito è lì nel feudo paterno mentre io sono in giro per terre anche estranee, terre di conquista. normalmente il terzo genito veniva avviato alla carriera religiosa. Ora mio fratello Paolo è un giornalista della Gazzetta dello Sport che in effetti esce la domenica, c'è qualcosa da dire religioso nel rapporto con lo sport in questo paese mi pare che ci sia, quindi diciamo che abbiamo un po' ripetuto a modo nostro questa strutturazione familiare.